L'Italia è giusto, vengono da delle realtà di situazioni vere, di popolo, di lotta di pazzo e quindi sono tutto giusto, tant'è che sono qui riuniti sotto una stessa voce, sotto una stessa casa, qua si tratta di rispettare il piano terra della casa Italia. Ma non è che c'è un esempio giusto, c'è ogni volta questa propaganda sui pericoli, sui rischi, sullo spaventapasseri nei confronti di queste manifestazioni, è in questo giro tutte le volte, la propaganda nei confronti di queste manifestazioni è sempre questa, quella che questo ne è nato di più è sempre il terribolo minaccioso di manifestazioni che si incendiano e che prendono fuoco. Ma io non lo so, io sono qui in piazza, sono al seguito, sono alla coda di questo momento. Ma lei si aspetta che sia l'inizio di qualcosa di nuovo?